Arriva Lautaro, attenzione, Lautaro Martinez, conclusione, Scesni! Grande parata su Lautaro Martinez! Ciao Tech, oggi è un giorno molto importante, prolunghi la tua avventura con i colori bianco-neri, quali sono le tue sensazioni? Le sensazioni sono bellissime, perché è una dimostrazione da parte del club della fiducia che hanno verso di me, e quindi sono molto contento e cerco di dare il mio meglio nei prossimi anni con i colori della Juve. Ti ricordi il tuo esordio con la maglia della Juventus in campionato, in casa allo stadio, un 3-0 contro il Chievo? Sì, lo ricordo, non era una partita particolare, perché io cerco sempre di affrontare le partite con tanta tranquillità, senza pressioni, esagerate, quindi era un bel momento, sono postati adesso quasi tre anni, quindi cerco sempre di migliorare e fare il mio meglio. In Champions invece in trasferta contro l'Olimpiakos, vittoria e passaggio del turno, strepitose parate che poi sono diventate una piacevole consuetudine delle tue partite. Quella è stata importante perché si è fatto male Gigi qualche giorno prima, sapevo comunque che ho dovuto giocare sei settimane da titolare, quindi è stato un momento importante, la prima vera prova nella Juventus e devo dire che mi sono divertito tanto. Senti, hai parato di piede, di istinto, intuffo, punizione, rigore, qual è la parata di questi primi anni che ti porti nel cuore? Non lo so, mi piacciono quelle nelle partite vinte sempre, mi è piaciuta tanta quella contro il Milan all'Alanen Stadium a novembre, e pure un colpo di testa di Pasalic contro l'Atalanta. La mia preferita è stata quella su Alan contro il Napoli quest'anno, all'inizio della stagione. La parata più difficile per un portiere è il calcio di rigore? No, non credo, sono tanti momenti difficili durante la partita, il rigore io non lo vedo molto difficile. Le tue prime tre stagioni sono state piene di presenze, vittorie e titoli, quali sono adesso i tuoi obiettivi? Vincere più titoli, sono qua fino al 2024 e voglio vincere tutto, è l'obiettivo di tutto il club, di ogni giocatore, quindi bisogna sudare, correre, sacrificare per arrivare agli obiettivi che sono sempre tutti i titoli. Vuoi cercare di instaurare un rapporto stupendo con i tifosi della Juventus, vuoi lasciare un messaggio in questa giornata? Voglio solo ringraziare tutti i tifosi per quello che mi hanno dato, le sensazioni che ho quando scendo sul campo all'Alanen Stadium, e vi faccio una promessa di dare sempre il mio meglio per questo club. Grazie.